Siamo con il dottor Marzoner, direttore di Fiera Bolzano. Klimhaus 2011 è arrivato alla sesta edizione. Quali sono gli orizzonti? Gli orizzonti sono vasti, vasti come l'Italia. E quindi la Fiera Klimhaus è una fiera incentrata sul risparmio energetico nell'edilizia. La Fiera è un obbligo sin dalla prima edizione per tutti i concittadini. Un obbligo non solo per questioni legate all'ambiente e a quel che sta succedendo col nostro clima, ma un obbligo anche dal punto di vista economico. L'Italia importa oltre il 90% dell'energia dall'estero, quindi è un paese che dipende, secondo noi, anche troppo da questa importazione. Ma penso che sia un atto civile seguire quello che sta succedendo con le tecnologie e i materiali edili, perché oggi è facilissimo costruire delle case che consumano pochissima energia, addirittura che la producono. Quindi se l'Italia vuole essere un paese civile, deve adattarsi quanto prima a queste necessità, che poi del resto sono anche prescritte dall'Unione Europea e così via. Il costo alto che l'energia fossile ormai ha raggiunto ci permette di ammortizzare poi questi investimenti. Se poi pensiamo che sia lo Stato che le regioni e addirittura anche singole città danno dei contributi o in qualche modo altri incentivi per muoversi, e quindi secondo noi è arrivato ormai il punto dove uno non può non essere interessato. Quindi questa interpretazione di questo obbligo futuro di ogni cittadino ha dato o era il motivo di un grande successo di questa fiera sin dall'inizio del 2006. Quindi gli orizzonti sono vasti come l'Italia, forse voi sapete che Clima House tre anni fa è andata anche a Roma per poi andare a Perugia, quest'anno sarà la terza edizione anche di Clima House Umbria, e io non escludo che sbarcherà prima o poi anche ancora più a sud. Quindi questo per permettere a tutti i professionisti, ma anche a tutti i consumatori che poi in fin dei conti sono quelli che pagano la casa, la casa Clima, oppure una casa che ha queste caratteristiche. Quindi informare, dare buon esempio e aiutare a capire. Quindi i numeri altissimi abbiamo visto di questa edizione, sia a livello di aziende espositrici sia di visitatori. Perché un visitatore dovrebbe venire proprio qui a Clima House? Invitiamo qualcuno che ci segue via internet. Perché trova una fiera, penso quasi unica in Europa, dove tutto è incentrato solo proprio sull'efficienza energetica nell'edilizia, quindi dai materiali alle tecnologie per il riscaldamento, per il raffrescamento, una concentrazione tale su 25.000 metri quadrati, come non lo trova in nessun altro posto. Penso che sia unica anche perché è una fiera molto autentica. L'Alto Adice da anni vive questi cambiamenti, li vive di persona, ha già cambiato tanto. Oltre alla fiera noi organizziamo i tour a varie case Clima, tour poi del resto ormai esauriti da settimane. Abbiamo chiaramente convegni, presentazioni sul forum. Io dico questo, chi oggi crede in un futuro più pulito, con meno spreco, è giusto che venga qui a Bolzano. Allora quindi invidiamo tutti i nostri visitatori a venire qui a Bolzano. E infatti tanti lo fanno già. Grazie, grazie. Grazie.